Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 29 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Nervosi in casa, felici fuori. Impossibile tenere in casa persone con l'argento vivo addosso come voi, soprattutto ora che in quadratura vi ritrovate il vostro astro guida Mercurio, in conflitto col vostro inquilino Marte, già schizzato di suo. E non si illuda qualcuno di intrattenervi con lavori nell'orto o bricolage nella cassetta di vacanza. Magari questo autunno, ma ora avete solo voglia di incontrare gente, fare qualcosa di diverso, muovervi e curiosare. Ordini del grande giove in se stile al sole plateale in leone. Niente segreti, pesano sullo stomaco e scatenano una gastrite, se avete qualcosa da dire fatelo fuori dai denti, inizialmente può ferire, ma poi vi ritroverete contenti di esservi tolti quell'errospetto dalla gola. In amore sembra rallentarsi tutto, in realtà ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Al consultante occorre molta pazienza per districarsi nei problemi della coppia e del proprio partner che ha spesso trascurato. I single avranno solo piccole avventure ma niente di rilievo. È probabile che oggi una persona del vostro passato torni a farsi vivo, anche se ha poco da dirvi tuttavia non respingetelo ma statelo ad ascoltare. Sceglietevi le compagnie da frequentare e non lasciatele al caso. Oggi come oggi avete bisogno di avere accanto persone fidate e di provata serietà. Limitate le vostre confidenze. Vi sentirete molto esigenti su tutto, avete ottime possibilità di mettervi in mostra e chiedete agli altri di fare esattamente quello che vi aspettate facciano. Venere e Urano in questo giorno propongono davvero un'energia speciale distribuita su tutti, molti potrebbero giovare di nuovissime e interessanti opportunità, mentre potrebbero rivelarsi stimolanti alcune nuove conoscenze, per chi le ha fatte nei giorni scorsi. Marte ispira il cambiamento, l'ordine di priorità nella vostra vita potrebbe essere stravolto radicalmente. Partite dalle cose più semplici. Per chi sta organizzando una festa o una cena, sappiate che dovrete valutare a fondo la lista di chi invitare e, potendo, fare una selezione abbastanza decisa. Buone nuove in arrivo, alcune novità potrebbero interessarvi talmente da vicino da esserne piacevolmente coinvolti. Non date ascolto a critiche o pettegolezzi che vi metterebbero solo in ansia. Non agitatevi troppo se oggi sarete chiamati su due piedi a prendere decisioni che potrebbero essere per voi importanti o definitive. Piove sul tuo cuore, non lasciarti per ora attristare dagli eventi e cerca subito una via di uscita che valga la pena percorrere. Plutone, vostro signore ideale ospitato nel vivace buon amico Aquario, innalza felicemente la vostra tendenza ad essere altruisti, a condividere spazi con il vostro prossimo, a espandere la vostra naturale socievolezza. Inoltre, Venere nel Leone mette in gioco le forze zodiacali che si rifanno al calore e alla comunicazione umana e questo aspetto è un indicatore formidabile di un momento favorevole nel campo dei rapporti interpersonali. Ne beneficiano a tutto tondo anche i rapporti di amicizia, da sempre il vero far nella vostra esistenza. Luna imbronciata in dodicesima casa, non da meno il vostro astro guida Mercurio, amico suo ma da quando è passato in vergine non vostro. Pettegolezzi in quartiere, in campeggio, sotto l'ombrellone, discussioni inutili in famiglia, si parla tanto per far prendere aria ai denti, ma così facendo gli animi si indispongono. In vostro soccorso fortunatamente accorrono pianeti positivi, tutti votati alla vacanza e alla bellezza, il sole e Venere dal Leone, Plutone magnetico dall'acquario, viaggiare aiuta a dimenticare i guai, lontani da casa e dalle ruggine della vostra vita cambiate subito faccia e visuale, riportando in luce il ragazzino che sonnecchia in voi e non ha mai smesso di sognare. Amore ed Eros Qualche battibecco in famiglia vi oscura temporaneamente l'espressione, ma sotto sotto sapete che si tratta di sciocchezze in parte dovute alla stanchezza, in parte a un attacco di luna storta che lascia il tempo che trova, già domattina vedrete le cose da un'altra prospettiva, sicuramente migliore. Cambiare opinione sarà semplice grazie ai buoni consigli e alla visuale razionale di amici o parenti estranei e alla questione, osservando le cose a distanza il loro giudizio libero da condizionamenti vi aiuterà molto, anche se non vi dà ragione. Lavoro e denaro Il lavoro è tutto a casa a riordinare, a preparare o disfare bagagli, nel caso in cui le vacanze siano già concluse, a fare spesa o, se siete improprio, a dare il meglio di voi in un'attività che sembrava destinata a concludersi e invece per un colpo di fortuna sta lentamente rialzando la testa. Belle letture sotto l'ombrellone, magari se non partecipate alla conversazione passerete per antipatici, ma il romanzo che avete tra le mani è così avvincente, per non parlare della vostra passione, i rebus, sono come le ciliegie, quando cominciate con una non la finite più. Benessere Problemino del giorno La pelle che patisce la carezza troppo ruvida e bollente del sole, ma non ha la forza di controbattere, perciò non può far altro che arrossarsi. Difficile anche la digestione, ma qui non date tutta la colpa alle stelle, se entusiasti della cucina locale vi abbuffate come alligatori, vada a sé che la notte scalcerete nel letto senza trovare la posizione giusta per addormentarvi. Denaro Siete il segno collegato al rischio e al desiderio di immergervi nell'avventura, quindi chi meglio di voi non si lascia tentare dal gusto di giocare al superenalotto? Se siete nati nel mese di maggio potreste attendervi quest'oggi sorprese per alcuni vere e proprie vincite. Per lei, che idea l'amica del cuore chiamarvi mentre state friggendo il pesce, va così che prese dalla conversazione, peraltro gustosa, la vostra preparazione va letteralmente in fumo. E il bello è che ve ne accorgete solo quando cominciate a tossire. Per lui, della quotidianità non ne potete proprio più, tutti i giorni gli stessi gesti, auto, ufficio, poltrone, proprio il contrario della vostra natura. Ora finalmente avete una bella spiaggia davanti a voi, potete correre dove vi pare. Ma poi, una volta rientrati alla base, ricordatevi di non perdere questa bella abitudine. Colore delle emozioni, giallo canarino. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.